Ok, dai, vai, vai Partito il primo skateboard! E aí Wow Posto posto 180 o fatto Ho fatto 180 Papo No Volte ально Sì, sì, tanto io Sì, sì, senti Sì, sì, senti Vai, allora posso andare Banti sul primo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.